Allora noi adesso abbiamo fatto questo, innanzitutto ci fa specie sentire che il sindaco dica io non c'entro, l'ho sentita ieri, ce l'hanno con me perché sono donna, non so adesso che altro troverà, ce l'hanno per me perché sono una buca, perché sono una spazzatura, non lo so. Allora abbiamo quindi chiesto alla magistratura di indagare il sindaco e tutto il consiglio comunale però, quindi maggioranza e opposizione, perché la legge prevedeva che il progetto fosse portato alla prima riunione utile del consiglio comunale dopo l'approvazione e non è stato fatto, quindi c'è un'omissione della sindaca, c'è un'omissione del presidente del consiglio comunale e di tutti i consiglieri che dovevano pretendere di avere questo progetto per poterlo approvare, evidentemente da quello che è uscito fuori, cioè il coinvolgimento di tutti i partiti è evidente che non si voleva fare, quindi bisognerà indagare su questo, poi abbiamo chiesto di indagare sull'ANAC, non vi meravigliate, l'ANAC fece un parere di assoluto favore per il progetto dicendo abbiamo esaminato, non ci sono cubature in più, non ci sono, lo conoscete, no? Penso che lo conoscete, ieri ci hanno telefonato perché noi abbiamo fatto un comunicato dicendo che si erano messi i prosciutti sugli occhi, dicendo no ma noi non abbiamo nessun potere, invece sapete benissimo che l'ANAC ha enormi poteri, tra cui quello di segnalare queste situazioni, mandarle alla Procura della Repubblica a poteri ispettivi e quindi bisognerà vedere come mai l'ANAC abbiamo fatto un'istanza di accesso. Poi facciamo, adesso stiamo notificando il motivo aggiunto al ricorso originario chiedendo la sospensione di tutto l'iter progettuale e così non può andare avanti. Da ultimo abbiamo una diffida alla sindaca di revocare e portare immediatamente il Consiglio Comunale il progetto, così vedremo adesso le varie forze politiche quando lo leggono con queste intercettazioni cosa diranno, entro 30 giorni altrimenti chiederemo la nomina di un commissario ad acta. Il commissario ad acta perché la legge prevede una procedura di questo tipo, diffida a compiere un atto alla pubblica amministrazione. Se entro 30 giorni l'atto non viene compiuto, in questo caso o la revoca dell'autorizzazione al progetto o la sottoposizione al Consiglio Comunale, si può a seguito della diffida fare un ricorso al TAR che si chiama contro il silenzio e chiedere al TAR che nomini un commissario che si sostituisca all'amministrazione. Grazie. Grazie.